ciao lupetti nuovo video relativo alla miniera stregata oggi parliamo di quel di qualcosa che non so onestamente come definirlo ancora che molti conosciamo e associamo una creatura in principale sto parlando dello zolfo e la creatura a cui le associamo è quasi sicuramente sempre il drago ma tuttavia non ho mai avuto niente a che fare con lo zolfo per sentito dire so che non ha un odore proprio piacevole ma non ho mai sentito l'odore dello zolfo non ho anche mai visto lo zolfo in tutta la mia vita e non ci ho mai lavorato di conseguenza neanche a livello pratico spirituale quindi chiedo a voi se per caso qualcuno di voi ha delle info relative allo zolfo che non siano quelle che ho trovato nel video che segue adesso quindi niente io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio anticipatamente delle vostre testimonianze vi lascio il video sullo zolfo e ci vediamo fra due settimane lo zolfo è un non metallo che si presenta spesso sotto forma di cristalli gialli è in odore anche se il caratteristico odore di uova marce si scatena nel momento in cui lo zolfo entra in contatto con l'idrogeno nell'antichità lo zolfo è sempre stato usato sia come arma che come medicinale omero lo cita parlando di una tribù che lo impiegò per distruggere le mura di una città in cina fu usato per creare la polvere da sparo paracelso lo unì al mercurio e al sale per i suoi studi alchemici sulla trasmutazione della materia lo zolfo corrisponde al terzo chakra e all'elemento del fuoco non corrisponde ad alcun segno zodiacale le proprietà mediche dello zolfo sono le seguenti è considerato un ottimo battericida e antiparassitario depura fegato milza pancreas depura la pelle aiuta per i dolori reumatici in campo esoterico è utile nei seguenti casi è usato per la purificazione e l'allontanamento di spiriti maligni è un amuleto protettivo specie se indossato in sacchetti rossi a o Grazie a tutti.